molti progetti della galleria possono essere salvati per essere ricreati cerca le tre palline presenti in ogni slide seleziona le tre palline coppia nei miei progetti da questo momento lo troverete fra i progetti vostri per poterlo studiare vedere come è realizzato possiamo imparare molto dei progetti degli altri possiamo osservare come sono stati creati i vari oggetti raccobati attaccati nominati possiamo osservare come sono stati creati le case gli edifici con i blocchi possiamo osservare come sono stati creati vari paesaggi possiamo trovare ispirazione per creare dei giochi grazie a tutti